eccoci qua bene ritornati su Guido of Dungeoning se l'ho detto giusto. Allora siamo nella caserma e praticamente come vedete abbiamo sbloccato il tier 2 perché abbiamo più di 500 stelline e quindi allora qui nella forza, forza, magia e potere vediamo qua c'è il ranger, il barbarian, vuoi giusto capire un attimo, ah questo qua è un ciondolo più potente una statuina, statuina più potente, idolo dei guerrieri qua invece, Stanley stones, qua dovrei alchimista ma io sarei questo qua sblocciamo il barbarian che ha sempre 5 stelline di base, vediamo un po' camp site un camp un camp mettiamolo vicino qua è arrivato... è arrivato una bella, tredo, snittito e inglese vuole essere un barbarian? non sembra deceività come abbiamo detto secondo me penso che è un barbarian una barbarian aaaaaah vediamo sto barbarian cosa ha la peppa allora, attacchi a manetta cioè, non ha un pizzico di difesa e qua mi sembra un po' troppo l'attacco piuttosto questo qui è molto più equilibrato ha tre difese, tre attacchi e uno mezzo e mezzo i barbari non hanno tante strategie in mente quindi è anche giusto che sia così squilibrato con il barbarian proviamo a fare questo qua che praticamente non mi ricordo che cos'è questo qua da fare i tesori vediamo un po' i barbari come ce l'accavano questo qua l'avevo già fatto non me l'ha salvato vabbè vediamo come va voglio vedere come ce l'accava potete andare l'arcest tre cuore qua questo lo mettiamo qua è già che vai di là anche le moncchie perche è andato a tirà ah 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 le ho messo le monete qua vabbè noi andranno dove vuole cosa vuoi che ti dico io è andato proprio da quello più forte ah vedete che se lui prende danno, perde un altro attacchiamo attacchiamo eh, la tattica a tutto l'attacco può andare bene, credo non sembra adesso cerchiamo di prendere qualcosa di difensivo ovviamente questo qua il tesoro che sarà dentro attacchi capi eh, allora i fantasmi non fanno magie, quindi questo qui credo che lo vado a avere questo abbiamo due attacchi rapidi e uno per cambiare carte eh, questo qua c'è un bel attacchi magici vediamo questo dai eh, sicuramente deve ritornare giù e va qua direttamente vediamo adesso adesso c'è deciso di andare da questa finalmente ah, abbiamo scoperto una fortuna del potere eh, allora direi, mettiamo un'altra moneta qua ahah questi barbari questi barbari vanno, vanno sparuti eh vabbè che in realtà è molto più prezioso il baule che la monetina questo è vero quello è vero eh, questi non li posso mettere questo no questo no questo mettiamo qua è vero questo no è vero questo è vero che ci ha passato questo è vero è vero allora è vero l'ho è vero attrazione l'ho E ho quanto il fantasmino come c'è la capiamo Ma io ho già perso un cuore Torricina per la sua... C'è chiama di vada n'è E ogni tanto non sono... Perchè? Ho giugato un po' È una cadita sinceramente Ho capito perchè abbiamo perso Vabbè, no sinceramente è il cuore che si è prosciugato Forse ha un attributo del nemico Allora... Ovviamente giochiamo con il Bruiser Che è un po' più forte Usta dobbiamo sconfiggere Skeleton E qua invece Rituale Amber in tempo Vediamo... Cosa succede? Queste due nuove zone Ah vedete? Rituale completo di citturini Eh... Dobbiamo arrivare qua andici mosse Rituale completo di città Hai capito? Ovviamente questo lo dobbiamo mettere qua Ehm... 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 Che abbiamo spirito in più eh Che non lo so... Niente Adesso nemmeno Ehm... Bonus Adesso Adesso non ti asciugare Ehm... Ehm... Mi non devo difendermi Ehm... Ehm... non so già spero che le carte è una no? questo di questo qui è una novità la scelta 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 fordì ovviamente questa frida deve prendere il caderno non fio, non c'è una furtana Ah, più per l'arrivo a questo. Ora possiamo posare ancora un'altra droga, un portafoglio. Ora possiamo trovare un'altra droga, un portafoglio, un portafoglio. Ora possiamo trovare un'altra droga. 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 Per chi si è fermato? Non è andato avanti? Ma prima? Ogni tanto vuole? Ora possiamo trovare un'altra droga. 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 non è stato un po' di staglia non è stato un po' di staglia si va a cacciarne i staglia Che viene da lì Allora Cosa sta aspettando il monitor Ma perchè deve fare un giro così? Arme Adesso lo metto qui Adesso lo metto qui No Non è buono Lo devo imparare di fuori Passano tutte le strade E' bello Cosa Questa è un scopo Non si non si non si non è Cosa 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 Non si è Un scopo Un scopo Un scopo Un scopo c'err si c'err 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 E' un'altra scelta che è un'altra scelta. E' un'altra scelta. E' un'altra scelta. In effetti se magari loro non hanno fatto attacchi magici, vabbè, dicono, vabbè, tutto questo è un'altra scelta. Sono attacchi magici, quindi, capito, nella strategia angorsa. E' un'altra scelta. Listo. E' un'altra scelta. E' un'altra scelta. E' un'altra scelta. D'accordo il Cimani è stato un'altra scelta. e 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 across the land from far and wide they come to the guild and want to fight sad to see them sliced and diced not only once but twice and thrice abbiamo preso un altro barbarian ma possiamo fare l'altro livello a vedere come anzi vediamo questo nuovo barbarian che abbiamo sbloccato che che tipo è vabbè è attacchio un po' di manetta come quell'altro vediamo 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 l'altro livello questo qua contro scheletro nello scheletro vediamo un po' com'è qua devo andare nel ponte elevatoio io ci sono mossa di spicca e 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 per le prossime io devo definire questo vediamo se riusciamo a vediamo se riusciamo a si proviamo con con questo a finire anche questo livello e qui due lì sono e 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 dai la prossima volta abbiamo sblocato un altro barbaria e e e invece gli altri qua dalla caserma bene allora ci vediamo alla prossima ciao ti